buongiorno a tutti magliettina di pagliuca dobbiamo parlare di torino inter partita che ahimè non ho visto ho seguito su tele lombardia e quindi vi lascio immaginare com'è seguire la partita su tele lombardia con bimbo pesce che prova a limonarsi anche il cronista dell'inter che adesso non mi sovviene al nome comunque è stata veramente una cosa divertente perché è divertente vedere uno che teoricamente dovrebbe fare la telecronaca per il toro vestito da da torinista con tanto di corna e ogni volta che segnava l'inter era lì che abbracciava il tifoso dell'inter vabbè ma bimbo pesce mi dicono che è una persona molto simpatica eccetera uno dei pochi lì che è simpaticissimo comunque il più simpatico che c'è lì dentro non uno dei pochi diciamo che è il più simpatico chi chi è stato in trasmissione mi ha detto così quindi mi fido di posso dirlo di diego ligorio che comunque è stato in trasmissione quando parla di bimbo pesce ne parla molto molto bene detto questo visto gli highlight ho letto un attimino un po di cose tifoseria soprattutto su toro news perché così almeno essendo loro di parte potevano anche dare un giudizio ancora più più preciso che non magari andare su una cosa dell'inter che magari esaltano la partita in ogni caso la magliettina di pagliuca lo metterò ogni volta che andano invece manterrà la porta inviolata in caso contrario metto la magliettina dell'inter classica come ieri fatto le sue ottime parate ottime come dico sempre il portiere sembra faccia un miracolo ma è sempre perché il pallone non è nell'angolino e lui magari è su quel palo perché se lui è dall'altro palo non la prende di sicuro sirigu ieri fortunatamente non era super sirigu anche se i gol non sono sicuro forse il secondo di devrai è un po colpa sua perché se lei è stato un attimino un po a guardare la palla che arrivava in aria e devrai la uccellato ma gli altri due non poteva fare granché sul terzo gol di lukaku la palla passa in mezzo alle gambe di un difensore il tiro arriva da dieci metri forse anche meno raso terra su quel terreno bagnato non sei tu fatto in tempo o ti tuffi prima o se no non lo prendi più e sul tiro di lautaro era da solo quindi e anche ieri ho visto anche la partita del bilan super parate di è andato in ginocchio davanti a uno che ha la palla quello gli ha tirato adosso e l'altro era un tiro centrale che lui ha alzato solo le braccia l'ha respinto ma stiamo sul torino inter stiamo su un inter che sfrutta un lautaro ma stiamo segnando sempre nella stessa maniera lautaro che parte sul filo del fuorigioco va via palla al piede non lo prendi più e lukaku continua a dirlo gli date la palla sull'esterna destra col difensore a sinistra e non gliela toglie più la palla lui va via in progressione perché comunque è potente quindi non lo sposti e lui calcia in diagonale segna come se è andato a vedere i suoi gol sono tutti così a parte quelli di testa o segna di testa o segna gli dai la palla sua lui la tiene entra in area diagonale o lo sbaglia o la para al portiero finisce fuori di tanto così come è successo ieri ieri uno l'ha messo nell'angolino e l'altro l'ha tirato fuori che è uscito di tanto così a fil di palo proprio poteva fare doppietta e ci è andata fuori un campo di patate perché pioveva che dio l'ha mandato pallone che passavi la palla ogni tanto rallentava non si fermava però si vedeva che comunque devi calciare un attimino più forte perché l'acqua rallentava un attimino era ai limiti della praticabilità campo peggiore l'ho visto con gli sparta mosca l'inter del quando vincevo la coppa uefa 97 98 quello fu ancora peggiore altro che il campo che trovarono al galatasaray quelli della juve quello era veramente un campo di patate noi ci vincevo 2 a 1 vabbè corsi e ricorsi storici lasciamo perdere i voti non li posso dare perché avendo visto solo gli highlight non è che posso dire bravo questo ho visto andano posso dargli 7 per le parate che ha fatto ma ripeto quella su de silvestri de silvestri alla fine della fiera tocco un pallone centralmente certe da due passi è bravo andano invece metterci il manone però era centrale alla fine della fiera lo angola non la prende più però d'altronde poverino era qui in contrasto con un giocatore dell'inter si tenevano tutte e due a vicenda eccetera è andato in anticipo a toccare il pallone ha fatto quello che ha potuto poi è andato a prendere quella bella punizione se non erro di verdi sotto l'incrocio nella smanacciata ma la musulmana è andata addirittura sopra la traversa poi ha parato il tiro di tiro cross di ansaldi ma non ho visto chissà che cosa di eccezionale ha mantenuto mi interessa che mantenga la porta inviolata scrignan si è preso l'ennesimo giallo così va in diffida barella si è preso l'ennesimo giallo no barella non l'ha preso perché già ha diffidato però si è rotto adesso speriamo che sia veramente solo una distorsione al ginocchio e non qualcosa di peggio perché se è una distorsione hanno già detto due settimane barro un mese in ogni caso lo perdi sia con il barcellona sia soprattutto mercoledì con lo slavia e non so chi cavolo manderà in campo con lo slavia con te perché adesso francamente non so chi c'è a centro campo gagliardini mi sembra non c'è barella non c'è da brosio meno male è rientrato ma non lo puoi mettere a centro campo o giochi con agume o giochi con borca valero devi giocare con brosovic borca valero e vecino sei obbligato e stiamo continuando a perdere pezzi che non ci possiamo permettere poi non è che si rompe uno che chissene frega se si rompe perché possiamo farne meno ci si rompe sensi ci si rompe gagliardini ci si rompe teoricamente rientra sensi quindi dovresti giocare con brosovic sensi e vecino poi però bisogna vedere sensi quanti quanti minuti ha nelle gambe perché poi dopo lo devi sostituire con borca valero che a quanto pare non ha fatto danni ha fatto la sua onesta partita però quando sentivo la cronaca nonno valero nonno valero nonno valero fa quello che può cerca di tamponare ma viene saltato e d'altronde l'età è quella che è se lui ha la palla è tanta roba ma se la deve recuperare giochi 10 perché non puoi pretendere che borca valero ti faccia filtro quindi sei costretto a giocare con brosovic sensi mezzala e borca valero lo metti a fare il 10 dietro le due punte e speri bene poi magari mi segna è mercoledì mi segna il gol vincente borca valero e lo mettiamo san borca però staremo a vedere si è visto di marco entrato all'ottantatresimo così ha provato anche il il giovane di marco che pare che si possa entrare dentro in qualche scambio per gennaio è entrato candreva al posto di lautaro al sessantattesimo eh vabbè libidine lautaro ormai è è confermato che lui a 20 minuti dalla fine viene sostituito giusto perché comunque ne abbiamo solo due di attaccanti no ne abbiamo anche tre ci sarebbe anche esposito ma si vede che non l'ha voluto rischiare visto il campo visto che comunque si stava già in vantaggio quindi giustamente tienilo di scorta esposito che non si sa mai visto l'andazzo cioè non possiamo ho detto meno male nazionale non sono rotto nessuno rientrano barella si rompe e ripeto speriamo sia solo una distorsione non qualcosa di peggio che così magari in un paio di settimane riesce a rientrare ce l'abbiamo per le ultime partite di dicembre poi è a posto per gennaio adesso dovremmo fare di necessità virtù e abbiamo partite partite che arrivano che sono belle toste perché adesso c'è una partita da dentro fuori mercoledì che non puoi non vincere poi arriva la SPAL in casa che dovrebbe essere abbastanza tranquilla poi dopo c'è la Roma poi c'è il Barcellona sono dolori sono dolori staremo a vedere cosa succederà detto questo io vi saluto vi ringrazio sono contento della vittoria siamo sempre lì a un punto dai culoni perché ho visto gli highlight di di Atalanta-Juventus e preferisco non dire nulla anche perché qui si parla di Inter quindi non sto a fare né polemiche né di Inter non mi interessano io guardo quello che facciamo noi poi gli altri sono a far loro detto questo alla prossima ciao